Qual è il rapporto qualità-prezzo? Uno viene da Alessandria a Torino per cui si viene ai suoi motivi validi e mi ha consigliato il dottor Tarello e io sono venuto. Mi sono trovato benissimo, il rapporto qualità-prezzo è ottimo, la professionalità è pure e in più che non guasta mai quando uno va al dentista è una persona estremamente simpatica. Questa mia valutazione ha fatto sì che venisse anche mia moglie che si trova bene e anche mio figlio dalla Svizzera.